Buongiorno a tutti e ben trovati alla conferenza stampa per il Carnival Pick 2024 e siamo qui con patrocinatori, organizzatori, promotori dell'iniziativa proprio per presentarla e anche per fare un discorso su quello che è il Carnevale, un po' la tradizione di quella che è stata a Diamante e di una tradizione che si è anche rinnovata attraverso una nuova forma e attraverso nuove iniziative. Siamo qui al tavolo con Pino Pascale, Pasquale Cirillo, gli organizzatori Elisa, Francesco, Fabrizio, Luigi e il presidente dell'Accademia Italiana e il peperoncino Enzo Monaco e adesso iniziamo subito con i saluti istituzionali. Pino Pascale, vice sindaco di Diamante. Buongiorno a tutti. È chiaro che quando si dà un evento nella propria città la prima cosa sono i saluti istituzionali e io lo faccio per conto anche del sindaco che per problemi istituzionali non può essere qui presente stamattina ma lo faccio anche a nome di tutta l'amministrazione comunale, anzi ci tengo a precisare l'amministrazione comunale di maggioranza perché poi dovessimo creare polemiche su qualcuno che non è d'accordo dall'altra parte. Più che i saluti istituzionali mi sono dei ringraziamenti, dei ringraziamenti a questi favolosi ragazzi che già lo scorso anno hanno creduto in questa operazione. Devo dire che il mio ringraziamento particolare va a Luigi che quest'anno ho avuto la fortuna di non avere come interlocutore telefonico di continuo come ha fatto lo scorso anno anche perché oramai si sono ingamminati e camminano con le proprie gambe e lo fanno in maniera egregia. Noi siamo partiti alla grande già lo scorso anno, siamo partiti con questo discorso di Viareggio, con questo discorso della Cartapesta, quest'anno si è aggiunto il teatro, sono aggiunte un'altra serie di iniziative che renderanno questo carnevale ancora più suggestivo, ancora più bello. Devo dire che l'altra sera quando sono venuto a vedere i ragazzi che lavoravano mi sono emozionato perché ho visto, ho incontrato Eugenio, Eugenio è stato quello che ha creato tanti anni fa nei magazzini del ragioniere Magorno il Carnevale a Diamante, quella volta l'abbiamo fatto con i carri e lui fu l'ideatore di tutte le maschere che poi presero posto sui vari carri. Un ringraziamento doveroso va a chi supporta questi ragazzi e gli dà una spinta abbastanza importante che sono gli sponsor per poter organizzare un carnevale così ricco e così bello. Poi quest'anno durerà 5 giorni, è un evento questo per Diamante e mi raccomando mettiamoci tanta passione anche da parte dei nostri concittadini perché poi sono bravi a esaltare le manifestazioni che ci sono negli altri paesi, poi quando avviene una manifestazione così importante e originale nel nostro paese rimangono un po', ma là entrano in gambo altri altri discorsi. Quando però Sanatino ho letto il Carnevale di Diamante e di Belvedere è pronto. Io pensavo che, siccome io sono contro il campanellismo, ma proprio come mia idea personale, ho pensato che forse c'è la possibilità che questo interscambio, loro hanno fatto i carri, possono venire qui a Diamante e portare anche loro, anche perché parliamoci chiaro, il programma nostro credo sia unico, credo sia, fatemelo dire senza piageria per nessuno, ma il migliore forse che c'è in tutta la costa tirrenica sicuramente. Quindi quello che chiedo e dico venite a Diamante, venite perché vi divertirete. Hanno organizzato delle cose in maniera egregia, specifica, i bambini saranno al centro come è normale, giusto che sia per questa manifestazione. Quindi grazie, grazie di nuovo, grazie Luigi, grazie a tutti gli organizzatori e grazie agli sponsor che hanno contribuito in maniera importante affinché questo programma venisse realizzato. Grazie Pino, il sogno penso di noi tutti quando vediamo anche quello che potremmo fare unendoci fra cittadini, anche fra persone e soprattutto fra paesi e magari utopisticamente speriamo che un giorno il campanilismo non ci sia più e veramente faremmo un carnevale della riviera dei Cedri, sarebbe bello, magari non lo so, lo mettiamo in cantiere. Enzo Monaco, presidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino, è stato menzionato anche una tradizione del carnevale e come si è inserita l'Accademia e ovviamente insomma tutto quello che rappresenta il piccante all'interno di questo carnival che è stato proprio definito piccante. Il carnevale storicamente per sua tradizione è piccante, se piccante significa trasgressivo, fuori dal normale, festaiolo, sicuramente tutti i carnevali sono piccanti ma questo credo sia l'unico carnevale in Italia che abbia questo suffisso picc che ormai è diventato diciamo l'emblema dell'Accademia, noi facciamo l'estate picc, in questi giorni siamo impegnati con il Festival Pic di Sanremo, quindi voglio dire è una connotazione importante che è congeniale alla natura della festa ma che ovviamente ci riempie di grande soddisfazione perché è importante ed è giusto che un'esperienza trendennale che si fa a Diamante collabori o dia una mano a una manifestazione nuova che nasce in questi anni. Mi pare che sia molto bello ed emblematico questo perché sono molti i motivi di conviacimento di questo carnevale. Il primo motivo è che a farlo c'è un gruppo di giovani e questo è molto importante, si rallaccia questo fatto della collaborazione fra vecchio e nuovo perché voglio dire io penso che si è scondato ripetere che in una comunità il futuro è sicuramente dato dai giovani e quindi vedere questi giovani che si impegnano, questo gruppo di lavoro interessante che fra l'altro è, consentitemi di dirlo, ho considerato che io ormai ho una certa età per cui posso guardare anche dall'alto degli anni che sono passati. È straordinario e nuovo per Diamante, cioè non ricordo io che ci sia stato sempre negli anni passati un fermento così ricco di persone, di aspettative e di entusiasmo indorna a una manifestazione. Ma ci sono anche altri motivi di conviacimento, l'altro motivo di conviacimento è che la manifestazione si fa per il secondo anno. Potrei sembrare così, perché dice questo? Perché viviamo in una regione, in un paese dove difficilmente le iniziative continuano. Di solito se ne fa una e poi finisce. Quindi il fatto che siamo o sono alla seconda edizione con un impegno che non è mutato rispetto alla prima edizione, evidentemente questo lascia ben sperare che questa manifestazione possa crescere ed affermarsi negli anni. Quando di solito mi intervistano a proposito del Festival del Peperoncino e mi dicono ma qual è il segreto del successo di questo Festival? Io dico sempre la perseveranza, la perseveranza perché evidentemente i primi due, tre, quattro, cinque, sei, sette anni del Festival erano quello di una festa di paese. Voglio dire, continuando e perseverando negli anni, credendo nell'iniziativa che si fa, evidentemente si cresce. Quindi il fatto che questi giovani al secondo anno sono più carichi di entusiasmo rispetto a prima, lascia ben sperare che possono arrivare a 30 edizioni e sicuramente quando questo avverrà. Io mi auguro che possa esserci un coinvolgimento di tutti i paesi della zona. Chi mi conosce sa che io sono fissato con l'idea della riviera dei Cedri, anche perché questo nome l'ho inventato io, per cui in effetti un Festival della riviera dei Cedri non potrebbe che rendermi contento. Quindi ci sono secondo me tutti i presupposti perché questa iniziativa cresca, bisogna crescere. Io mi complimento in dando con i giovani per quello che hanno fatto fino adesso, dico in bocca al lupa e auguri per un proseguimento che sarà sicuramente ricco di soddisfazione. Beh, è un ottimo augurio quello che è stato fatto, è davvero di buon auspicio che possa essere davvero il carnevale del trentennale, il carnevale magari ecco della riviera dei Cedri. ed è bello, magari potreste anche coinvolgervi insieme, quindi avere anche un mezzo carnevale nel festival. Assolutamente no, assolutamente no. Allora, ovviamente entrambi sia Pino Pascale che Enzo Monaco hanno rimarcato la possibilità ovviamente di credere nei giovani e la possibilità di fare queste iniziative. C'è chi ci ha creduto come il promotore dell'iniziativa Pasquale Cirillo. Appena ho saputo che c'era questo evento a Diamante ho subito capito che era qualcosa di unico e di grandioso e mi sono messo subito a disposizione offrendo la comunicazione del carnevale con il mio social media manager che è il Claudio Salerno, grande, e abbiamo fatto realizzare delle targhe per la corrida piccante e la maschera più bella. E poi la serata finale con una targa dell'Orafo Michele Affidato sarà un riconoscimento per Cice Barretta perché secondo me è uno degli artisti più grandi della Calabria al momento e merita di essere riconosciuto da parte della comunità di Diamante. Niente, dove volevo? Adesso ci ha anticipato che ci sarà questo festival piccante a Sanremo, anche noi abbiamo concordato. Sì, 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 sì. Niente, questo comunque Luigi lo sa dire meglio, quindi passo il microfono a lui. Allora, le targhe di Michele Affidato, ti ringraziamo Pasquale per aver creduto in questa iniziativa. Tra l'altro ovviamente c'è poi anche chi è dietro, è stata menzionata Claudia Salerno, menziono anche Giulia Di Falco e Giussi Perrone che sono al... Loro sono tutti nell'organizzazione. Non solo perché abbiamo detto del coinvolgimento della comunità dei bambini a livello pratico perché qui ne abbiamo tre, loro stanno facendo anche la carta pesta. Vi state divertendo a fare la carta pesta? E hanno appena finito il laboratorio di teatro con Gilda Magorno, presidente dell'Associazione Grillo Parlante. Non sei il presidente? No. Però direttore artistico dell'Associazione Grillo Parlante che porta, fa avvicinare i ragazzi al teatro e li continua a far avvicinare, a rimanere sulle scene. Vuoi fare un saluto? Ci dici anche cosa stanno facendo questi bambini, questi ragazzi? Allora, giusto un saluto e soprattutto, prima di tutto, un ringraziamento agli organizzatori per avermi dato questa opportunità di riprendere il teatro nel mondo dei ragazzi. Tra l'altro qua a questo tavolo quasi tutti hanno recitato con me, si contano uno, due e tre che non hanno recitato con me. Quindi vengono tutti da un passato in cui hanno imparato ad amare il teatro ma hanno imparato anche a stare insieme, a coltivare le amicizie, a capire il valore del teatro come strumento di socializzazione. perché questo è il senso più, come dire, il senso ultimo del teatro è proprio questo, dare un'opportunità ai ragazzi e ai ragazzi del nostro paese di stare insieme, di capire come relazionarsi gli uni agli altri, di scoprire il rispetto per se stessi e per gli altri. Ovviamente il lavoro è tanto, forse io li sottopongo a uno stress, ma perché purtroppo ci hanno dato dei tempi brevi, saremmo in scena, diciamo così, il nove, vero? E quindi abbiamo pochissimo tempo e devo dire che i bambini stanno rispondendo molto bene. Io farò un oltre Pinocchio, è un testo mio che ho fatto in un laboratorio in una scuola di scalea e ho scelto questo perché è adatto ai bambini ma anche perché è la commedia delle maschere. Quindi c'è Arlecchino, Puccinella, Mangiafuoco, Colombino, Rosaura, quindi tutti i personaggi del Carnevale sono in questa commedia, di cui però noi daremo un assaggio, perché purtroppo l'opera è complessa, quindi ci vuole molto lavoro e non facciamo in tempo a fare tutto lo spettacolo completo che mi auguro faremo prossimamente, non so, tra 5-6 mesi in teatro, quindi nel Teatro Vittoria di Diamante, che io comunque ringrazio perché ci dà la disponibilità, ci dà l'uso dei locali, quindi abbiamo un'opportunità molto importante. Ringrazio anche Roberto Tucciarelli che cura la parte musicale. Per noi è una grandissima risorsa perché è un artista che ha lavorato in Mediaset, lavora in TV, ha lavorato con Lorella Cuccarini, quindi avere un maestro, un musicista come Roberto Tucciarelli che cura le musiche è per Diamante veramente una grande risorsa che ci porta oltre i nostri confini. Quindi grazie a Roberto per questa grande opportunità, grazie ai bambini che sono sottoposti a questo stress continuo perché adesso stiamo provando tutti i giorni perché dovremmo portare quelle due o tre scene, sarà una presentazione dei personaggi come ho già detto, e grazie ai genitori che sono disponibili a portarli e a seguire quelle che sono le mie indicazioni. Che devo dire più? Non devo dire più niente, mi pare di aver detto tutto. Buon lavoro agli organizzatori e speriamo che il tempo con noi sia clemente e ci dia la possibilità di fare questo carnevale, magari bagnato inizialmente, perché il carnevale è bagnato fortunato, ma poi con il sole e con il sereno. Buon lavoro a tutti voi! Però in effetti questo finale ci dà l'opportunità comunque di invitare a seguire le pagine social, Facebook, Instagram, TikTok del Carnival Peak perché poi anche tutti gli aggiornamenti saranno dati lì. Abbiamo menzionato anche la corrida piccante che sarà fra i giorni del festival, voglio salutare Rossella Pagano e Gianni Pellegrino che saranno i due conduttori. Ovviamente mi dà l'opportunità di ringraziare Tele Diamante che oltre ad essere la TV di Diamante della Riviera dei Cedri ha sposato ovviamente l'iniziativa. Ringrazio anche i colleghi Giuseppe Gallelli ed Emanuele Molinaro per essere qui questa domenica mattina insieme a noi. E adesso ovviamente passiamo all'organizzazione, quindi anche a valutare insieme il programma, a presentare e illustrare il programma delle iniziative. Fabrizio Raffo, la società Italia Peak è quella che ha sposato interamente l'iniziativa del carnevale che ha dato il via all'iniziativa del Carnival Peak. Beh sì, una sera di novembre quando i ragazzi qui presenti che già ha nominato sono venuti a parlare con me e mio fratello proponendoci questo carnevale a Diamante e soprattutto chiedendo il nostro aiuto per quanto riguarda un'organizzazione serale, un'organizzazione degli stand e tutto. come loro hanno creduto in noi, a me e mio fratello, in questa società, noi abbiamo voluto credere in loro e abbiamo messo giù grazie al loro aiuto e grazie anche all'aiuto dei nostri sponsor come hanno già nominato che ci hanno aiutato e supportato abbiamo creato questo programma non solo pomeridiano che dopo spiegherà qui Luigi ma anche un programma serale dove abbiamo cercato di dare il meglio per questi cinque giorni non è stato facile perché comunque cinque giorni e organizzare anche tutte le sere e le cose però grazie all'aiuto di tutti ci siamo riusciti prima di passare la parola a Luigi come dicevano già Pino e Enzo il mio sogno personale più che in questo societario è quello di un giorno organizzare un qualcosa con tutti i paesini io quest'anno ho già provato a buttare le basi era troppo tardi e quindi non ci siamo riusciti ma spero che l'anno prossimo sarà uno dei progetti che possa partire insieme a tutti quanti e così da creare qualcosa di diverso perché penso che in questo mondo dove noi siamo ancora dei paesini troppo piccoli l'unica forza che possiamo avere è quella di unirci per poter creare qualcosa di bello e adesso passo la palla a Luigi che mi spiegherà un po' più il programma nel pomeriggio e nelle altre giorni Buongiorno allora innanzitutto il carnevale avverrà dal 9 al 13 febbraio il corso del carnevale è sul lungomare Santa Lucia e il palco eventi è in piazza Mangini al comune abbiamo creato due format un format pomeridiano che è un format rivolto soprattutto ai bambini ci sarà un'associazione che si chiama Cotton Candy che si occuperà dell'animazione durante tutti i cinque giorni ci saranno artisti di strada ci sarà la presenza di diverse associazioni di ballo, palestre, locali e poi c'è un format serale nel palco eventi abbiamo ben 5 eventi serali il primo esordiamo con Made in Zood con Nello Iorio il sabato abbiamo la serata DJ con Emiliano Bianco Antonio Presta e Ginevra Voice per quanto riguarda la domenica abbiamo inventato insieme a Teletiamante l'Accademia del Peperoncino un vero e proprio spettacolo di genere che è la corrida piccante quindi non è una corrida banale ma ha l'elemento piccante l'elemento che noi abbiamo sposato anche con il carnevale e sarà piena di sorprese ci saranno diversi artisti territoriali uno l'abbiamo qui anche in tribuna ci sarà uno spettacolo di burlesque a chiusura di questo evento il lunedì abbiamo la sera Beat 90 dove verranno diciamo ci saranno tutte le hits degli anni 90 con ballerine, cubiste cantanti e diversi artisti che arricchiranno questa serata e a finire il martedì il tanto acclamato c'è Barretta che per la prima volta verrà diamante lo aspettiamo tutti e voglio dire una cosa importante che la cosa che più ci gratifica e che più ci ha gratificato in questo periodo sono proprio i laboratori dei bambini noi ci stiamo spendendo e tante volte ci domandiamo con Francesco, Elisa, Salvatore, Fabrizio perché lo facciamo però ogni giorno che arriva il laboratorio dei bambini noi capiamo perché lo facciamo lo facciamo per loro e sono due attività propedeutiche al nostro carnevale per cui in questi mesi abbiamo assistito al laboratorio di teatro dei bambini molto interessante che avvia comunque i bambini verso un'educazione teatrale che è una cosa molto importante in un periodo storico come questo che è comunque un periodo vuoto vuoto di valori e il laboratorio di cartapesta il laboratorio di cartapesta propedeutico al carnevale perché i bambini avranno uno spazio all'interno dei temi del carnevale che noi abbiamo creato che sarà dedicato a loro una vera e propria galleria per i bambini che dire più il nostro carnevale è pieno di temi qualcuno ve l'abbiamo anche spoilerato li spoileriamo tutti? non li spoileriamo abbiamo diciamo che qualcuno è in esposizione quindi in effetti Wonka Barbie abbiamo l'Aria Food che coincide con il tema piccante abbiamo dieci opere esposte da Viareggio collaborazione che abbiamo già iniziato l'anno scorso e quest'anno con molto orgoglio esponiamo dieci opere da Viareggio dei maestri caristi Stefano Di Giusto e Silvano Bianchi due artisti di prima categoria del carnevale di Viareggio per cui il nostro carnevale si può dire che è un carnevale di qualità no Pasqualì? un carnevale di qualità quindi vi invitiamo tutti a partecipare il miglior carnevale di sempre ma sarà sempre quello dell'anno successivo perché noi abbiamo come obiettivo quello di fare questo carnevale diciamo prendendo ispirazione proprio all'Accademia del Peperoncino rendere continuità questo evento creare una città del carnevale a diamante io lo dico e lo continuo a dire anche quest'anno e lo faremo e lo faremo perché quest'anno fortunatamente abbiamo trovato sponsor abbiamo trovato una società che è quella di Fabrizio Italia Pic che ci sta sostenendo e porteremo avanti il nostro progetto grazie a Francesco Magurno Elisa Gambardella a Salvatore Marra e ai ragazzi che tutti i giorni ci sostengono per questo progetto un bacione allora oltre ovviamente è stato uno dei laboratori più più partecipato quello con la carta pesta insieme ad Eugenio Magurno che ha realizzato il pulcinella che vedete qui al tavolo e non solo anche l'artista Anton si è messo a disposizione per cui ha realizzato alcune delle opere che saranno poi in esposizione sul lungomare di Diamante il vice sindaco mi aggiungeva un dettaglio non importantissimo non secondario noi avevamo pensato già lo scorso anno ma quest'anno lunedì partirà la richiesta ufficiale al comune di Viareggio per questo gemellaggio che già avevamo pensato lo scorso anno sono due le città che abbiamo scelto essenzialmente per gemellarci una è Taormina e una è Viareggio oltre al Carnevale è una località turistica balneare di altissimo livello quindi ci consente anche di rimanere in tema il fatto del Carnevale poi arricchisce ulteriormente questa scelta quindi lunedì partirà questa lettera al sindaco di Viareggio e contiamo che prima dell'estate di fare tutti e due i gemellaggi sia con Daormina che con Viareggio Bene grazie innanzitutto a chi è organizzato e a chi ha creduto nell'iniziativa e ringraziamento a chi sta lavorando anche nel dietro le quinte per l'iniziativa a Tele Diamante per essere sempre presente e a voi che siete intervenuti questa mattina vi invito nuovamente a seguire le pagine social Facebook Instagram e TikTok su cui troverete ovviamente tutti gli aggiornamenti da parte del Carnival Peak ci vediamo a Diamante a partire dalle 15 venerdì 9 febbraio poi 5 giorni saremo insieme a divertirci grazie a tutti e buona domenica grazie